Il Parlamento svedese ha autorizzato l'adesione del paese alla Nato con 269 voti favorevoli, 37 contrari e 43 assenti. Il ministro degli esteri Tobias Bilstrom ha dichiarato che la Svezia potrà aderire all'alleanza durante il vertice Nato, che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. Turchia e Ungheria, però, devono ancora ratificare la candidatura per la Svezia e per la Finlandia. Dopo l'invasione russa in Ucraina, i due paesi nordici hanno annunciato di voler aderire alla Nato, sovvertendo così le politiche decennali di non allineamento militare.